Terza settimana preparatoria alla consacrazione del Montfort, quinto giorno, dai discorsi di San Bernardo Abate. È vera sapienza meditare i misteri della vita di Gesù. Il Santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio, Fonte della Sapienza, Verbo del Padre nei Cieli Altissimi. Il Verbo, o Vergine Santa, si farà carne per mezzo tuo, e colui che dice, io sono nel Padre e il Padre è in me, dirà anche, sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Dunque in principio era il Verbo, cioè già scaturiva la fonte, ma ancora unicamente in sé stessa, perché al principio il Verbo era presso Dio, abitava la sua luce inaccessibile. Poi il Signore cominciò a formulare un piano. Io nutro progetti di pace e non di sventura. Ma il progetto di Dio rimaneva presso di Lui, e noi non eravamo in grado di conoscerlo. Infatti, chi conosce il pensiero del Signore è chi gli può essere consigliere. E allora il pensiero di pace si calò nell'opera di pace. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Venne ad abitare particolarmente nei nostri cuori per mezzo della fede. Divenne oggetto del nostro ricordo, del nostro pensiero e della nostra stessa immaginazione. Se egli non fosse venuto in mezzo a noi, che idea si sarebbe potuto fare di Dio l'uomo, se non quella di un idolo, frutto di fantasia? Sarebbe rimasto incomprensibile e inaccessibile, invisibile e del tutto inimmaginabile. Invece ha voluto essere compreso, ha voluto essere veduto, ha voluto essere immaginato. Dirai, dove e quando si rende a noi visibile? Appunto nel presepio, ingrembola vergine, mentre predica sulla montagna, mentre passa la notte in preghiera, mentre pende sulla croce e illividisce nella morte, oppure mentre è libero tra i morti, comanda sull'inferno, o anche quando risorge il terzo giorno e mostra agli apostoli le trafitture dei chiodi, quali segni di vittoria, e finalmente, mentre sale al cielo sotto i loro sguardi. Non è forse cosa giusta, pia e santa, meditare tutti questi misteri? Quando la mia mente ripensa, vi trova Dio, vi sente colui che in tutto e per tutto è il mio Dio. È dunque vera sapienza, fermarsi su di essi in contemplazione. È da spiriti illuminati, riandarvi per colmare il proprio cuore del dolce ricordo del Cristo.